Il Gravina ritrova subito la vittoria dopo la sconfitta della settimana scorsa in terra lucana contro il Francavilla Insigni. Al vicino i Murgiani battono 2-0 il Sorrento grazie alle reti della ripresa di Diop dal dischetto al 72esimo e Chacon all'88esimo, partita che ha visto i ragazzi guidati da Summa e Ragone dominare il match per diversi minuti, meritando di fatto i tre punti in palio. Nel primo tempo c'è solo il Gravina, Chiaradia ci prova subito, sfiora la porta ma la sua conclusione è deviata in corner, occasione ghiotta per Borgia da posizione defilata, Volzone si salva così, Diop serve Di Modugno in aria, tiro a lato in questi primi 45 minuti e Volzone il vero protagonista dei campani come nel salvataggio a tu per tu con Di Modugno, il Gravina ci prova anche da fuori con Tuninetti, sfera a lato di poco, poi ecco Diop, conclusione dal limite, alta di non molto, ha solo dei padroni di casa, Notari Stefano ci prova, palla a lato negli ultimi minuti, Diop di testa su assist di Notari Stefano, trova lo specchio di porta ma non la rete, solo illusione del gol, nel finale ecco la prima vera reazione del Sorrento, con Cassata che mette in mezzo, Carrotta spara da alto da buona posizione, prima dell'intervallo Chacon sfiora la traversa, sua azione insistita è 0-0 nei primi 45 minuti, nella ripresa prova a scuotersi il Sorrento, Tedesco su punizione costringe l'isola a deviazione in corner, ma è solo illusione, il Gravina si fa subito in avanti con il corner battuto da Giglio per Gigli, Volzone se la ritrova tra le braccia, al 25esimo Chacon viene abbattuto in aria e calcio di rigore per i Murgiani, dal dischetto Diop non sbaglia e trova il meritato vantaggio per i padroni di casa, vicino in festa, anche a due minuti dal novantesimo, con Chacon che freddissimo chiude i conti con la rete del 2-0, Gravina in festa dopo il gol dell'argentino, nel finale c'è spazio anche per Krustevski che ignora Tomasone, solo in aria e calcio in porta debolmente, finisce così 2-0, per i campani la vittoria manca ormai da tre turni, nel prossimo turno infrasettimanale affronteranno in casa il Biceglie, Gravina di scena a rotonda.